Programma ricco di appuntamenti, quello riguardante gli anticipi che domani daranno il via alla sesta giornata di ritorno dei campionati regionali. Per l'eccellenza le squadre protagoniste saranno 10 per un totale di 5 incontri. Ad aprire il quadro ci sarà Alife Treppini-Matese, un match che risulta quasi una passeggiata per gli undici di mister Camurani, terzi in classifica e reduci da un pocherissimo rifilato al Baranello. La formazione alifana invece ha poco da dire in suo favore, ultimissimo posto in solitaria e nessuno spiraglio di novità. Le regolarità della gara sono affidate a Davide Mastroianni di Isernia. Incontro casalingo anche per il Rocca Sicura, che attenderà la spolisportiva Gambatesa. La rosa della provincia isernina è ufficialmente ritornata in zona play-off, grazie ai suoi quattro punti utili consecutivi ottenuti nelle ultime giornate. Anche i pronostici per la gara di domani risultano essere in suo favore e considerando anche il favore del campo sarà meglio non sbagliare. Sull'altro fronte invece c'è la consapevolezza di dover mettercela tutta per ottenere punti importanti e far fronte ad una nuova graduatoria che va sempre di più a definirsi. Dirigerà lo scontro il signor Moretti di Como. A seguire, ma sempre alle ore 15, si affronteranno Sesto Campano, Real Guglionesi. I padroni di casa, dopo lo scivolone contro il Boiano, dovranno recuperare concentrazione e punti. Altresì, nemmeno gli ospiti potranno permettersi distrazioni, puntando invece ad un successo che è venuto a mancare nello scorso turno e che ha determinato l'uscita dai play-off della squadra. All'andata l'incontro era terminato con un pareggio e ad oggi le previsioni non sembrano essere molto diverse. Designato arbitro del match Matteo Matarese di Termoli. Fari puntati anche su Baranello Boiano. La squadra di Gioffre deve vincere per forza se vuole iniziare a realizzare il sogno salvezza, ma gli avversari che avranno di fronte non saranno disposti a cedere. Il team sotto la guida di Mister Di Chiro di fatti non raccoglie punti da tre giornate e per questo sarà più che determinato nel dare una svolta al trend negativo. L'arbitraggio sarà affidato al signor Ferrara di Isernia. A chiudere gli anticipi di eccellenza troviamo campo basso 1919 Isernia. I rosso-blu torneranno a giocare con il favore del campo dopo aver registrato la diciostesima sconfitta di campionato. Il nuovo avversario di domani sarà appunto l'Isernia che lo scorso fine settimana ha ottenuto un pareggio contro l'Aurora Capriatese. Di certo questa disputa appare essere una ghiotta occasione per i pentri per riuscire a portare a casa i tre punti e fissare la dimora nel reparto salvezza. I 90 minuti sono affidati a Domenico Petraglione di Termoli. Scendiamo ora in promozione dove sono previste due gare. Al Vita Antonio di Ripalimosani i locali attenderanno il Termoli 2016. Entrambe le compagini provengono da un pareggio. Tuttavia Ripalimosani sembra avere imboccato la strada con destinazione finale eccellenza. I ragazzi di Mister Bentivoglio infatti continuano a navigare nelle zone alte della classifica accocciando la distanza con le capoliste. Anche gli adriatici andranno a caccia della vittoria, indispensabile per allontanarsi dalla zona rossa e riuscire così a restare nel girone senza passare per i play-out. Fischietto di gara Fabrizio Simonelli di Sernia. Dopo la bella prova interna ai danni dello Spinete, il Torre Maggiore torna in campo ma questa volta in trasferta allo stadio comunale di Civitanova del Sagno dove ad attenderlo ci sarà il Carovilli. Nonostante lo stacco di sei posizioni in classifica la differenza di punteggio tra queste due squadre è solamente di quattro punti. Dati questi presupposti dunque risulta chiaro che vincere la partita porta con sé la possibilità anche di scavalcare l'avversario e ribaltare così l'attuale assetto. Il signor Di Mario di Campobasso arbitrerà il suddetto incontro.